Il comune di Andria, attraverso la voce del sindaco Nicola Giorgino, ha proclamato il lutto cittadino per il tragico incidente ferroviario che ha sconvolto l'intera comunità andriese. Il lutto si protrarrà sino al giorno della celebrazione delle sequie. Ho proclamato il lutto cittadino a partire dalla data odierna in vigore sino al giorno delle sequie, scrive su Facebook Nicola Giorgino, siamo uniti e vicini ai familiari delle vittime, il cuore degli andriesi è grande e lo stiamo dimostrando anche in queste ore drammatiche.